Questa giornata della rinascita, anche una giornata della rinascita delle informazioni, bontare molto sulle cose positive, e lo dico ai nostri giornalisti in primis, cioè io sono abituato a farci prima di tutto un'autocritica, se sono arrivato a dire che serve una figura come Baba Francesco per il mondo islamico, è una cosa positiva, ma allo stesso tempo svegliamoci, dobbiamo essere uniti, non dobbiamo essere divisi. La primavera araba ha diviso il mondo arabo in tantissimi paesi, ogni paese arabo è diviso in 3-4 frazioni, palestinesi lo stesso, isiriani, egiziani, Libia. Dov'è la Libia? Io tutti i giorni venivo qua a parlare della democrazia in Libia, del dialogo interreligioso in Libia, lo stesso è il Libano. Per questo io, un terzo appello, non ci sono due, senza tre, che sia una giornata della rinascita, ma diamo risposte alle domande che ancora aspettano risposte. Sentiamo ancora un passaggio delle parole di Papa Francesco stamane in Piazza San Pietro, ascoltiamolo. Cari fratelli e sorelle, prima di concludere questa festa della fede, desidero salutare e ringraziare tutti voi. Ringrazio i fratelli cardenali e i numerosissimi vescovi e sacerdoti di ogni parte del mondo. La mia riconoscenza va alle delegazioni ufficiali di tanti Paesi, venute per rendere omaggio a due pontefice che hanno contribuito di maniera indelebile alla causa dello sviluppo dei popoli e della pace. Uno speciale ringraziamento va alle autorità italiane per la preziosa collaborazione. Il mio saluto va a tutti i pellegrini qui in Piazza San Pietro, nelle strade, e negli altri luoghi come pure quante ci sono uniti a noi mediante la radio e la televisione. E grazie ai dirigenti e agli operatori dei media che hanno dato a tante persone la possibilità di ripare. A proposito interreligioso, quando il patriarca ecumenico ortodosso indica Papa Francesco come un esempio da seguire, è una notizia. Stefania, che notizia? Io credo che questa sia una cosa che fa un deciso passo avanti, che pone il cammino avanti, perché Bartolomeo, che è appunto il patriarca ecumenico di Costantinopoli, è il successore di Atenagora. Ecco, quindi con Atenagora Paolo VI fece quello storico incontro nella Terra Santa. Ora, io ho fatto questa intervista, ieri è pubblicata la sua avvenita appunto, in cui gli ho chiesto, proprio a partire dalla canonizzazione di Giovanni XXIII. E lui ha detto che è un esempio da seguire, Giovanni XXIII, ponendolo addirittura come patrono per l'unità dei cristiani, auspicando questo. Questo è un pronunciamento da parte di un'autorità massima del mondo ortodosso, che, insomma, è da tenere in considerazione significativo, soprattutto anche perché loro considerano, ecco, è anche espressione di questo, un santo canonizzato della Chiesa Cattolica e un pontefice, quindi un papa della Chiesa di Roma, come altrettanto, come un santo, come un prepadobbine, loro lo chiamano, cioè tributando a lui una venerazione, che, peraltro, c'è stata fin dopo, subito dopo la sua morte, si è registrato nel mondo cattolico questa venerazione nei confronti di Giovanni XXX. Quindi, attualmente, Bartolomeo riprende questa eredità e la porta avanti, chiedendo e auspicandosi questo. Non solo. Bartolomeo, bisogna dire, è stato il primo patriarca ad assistere all'insediamento di un papa. L'anno scorso è andato all'insediamento di Bergoglio, di papa Bergoglio, ed è stato lì già questo abbraccio. In quel momento hanno deciso insieme di fare questo viaggio in Terra Santa. Quindi non è il papa che va in Terra Santa come viaggio apostolico, ma è addirittura un partire insieme e andare verso quella che è la madre di tutte le Chiese. e in questa intervista, insomma, lui fa anche capire che questo viaggio sarà un viaggio importante verso questo cammino. E soprattutto quello che mi ha colpito è che ha detto che gli ortodossi non percepiscono ora nell'istituzione papale nessun tratto di prepotenza, quella che in passato aveva molto ostacolato i rapporti tra i cattolici e ortodossi. Pertanto, dice l'esempio di Papa Francesco, pone su basi nuove l'intero cammino del dialogo ecumenico. Io credo che siano affermazioni di una portata enorme, dette da un patriarca. Ecco, di un membro che quello che Paolo VI e Giovanni XXIII avevano avviato, perché noi dobbiamo ricordarci che l'unità dei cristiani è un'esigenza e un'urgenza del presente, come lo sta dicendo in tutte le maniere il Papa Francesco. Ed è un dovere anche di tutti i cristiani. Ma risponda a una preghiera che era quella sacerdotale di Cristo stesso che diceva appunto che la sua chiesa, i cristiani, non possono essere divisi. Io credo che in questo atteggiamento di Bartolomeo che è significativo a livello storico è altrettanto significativo è la novità introdotta in questo senso da Papa Francesco e siano insomma dei passi avanti ben precisi, ecco, che profetici della chiesa. Una piazza questa fotografata e raccontata tanto, non poteva che essere così, sui social network e allora siamo in grado di mostrarvi come Piazza San Pietro è stata raccontata. Ecco, lo vedete, siamo su Twitter, su SkyTG24, queste sono le immagini raccolte da quanti erano in piazza, fedeli, pellegrini, turisti, semplici turisti, giovani ragazzi che hanno con i loro scatti per contare, ecco, questo scatto si chiama Sopra i tetti, la gente che da i tetti assiste alla cerimonia da Piazza Venezia a San Pietro un lungo, unico marciapiede, quest'altro scatto e poi ancora il cielo sopra Piazza San Pietro, la pioggia, ha dato una tregua speciale, davvero, era atteso un ubifraggio quest'oggi che non c'è stato su Piazza San Pietro. Protagonisti in piazza, senz'altro i quattro papi, ma anche quelle donne miracolate, riconosciute come tali dalla chiesa, ha voluto internire con una preghiera a Marie-Simon Pierre, quella suora francese affetta da Alzheimer, lo stesso morbo che subì per anni e anni Giovanni Paolo II e da lui stesso guarita. Allora, andiamo a sentire le sue parole. Per intercessione di San Giovanni Paolo II, Dio susciti tra gli uomini di cultura, di scienza e di governo la passione per la dignità dell'uomo e faccia sì che in ogni persona venga servito Gesù risuscitato e vivente. Era evidentemente il Parkinson. E allora, anche queste parole hanno colpito quest'oggi. Una chiesa il cui modello diventa chiarissimo da oggi in poi. Anche la testimonianza di quanto detto dal patriarca va verso questa direzione? Ma io, se posso dire una cosa, il grande dimenticato, il grande messo in ombra di questa storia, di questo bellissimo pezzo di storia che oggi abbiamo raccontato qui, lasciando da parte Giovanni Paolo I, perché è stato veramente troppo poco tempo per poterlo, diciamo così, mettere all'interno di una storia molto articolata, è Paolo VI. Paolo VI aveva una frase molto forte, molto importante che incarna poi Vojtila e Papa Bergoglio, ma che incarnò anche Papa Giovanni XXIII. Il mondo oggi ha bisogno più di testimoni che di maestri. Io spero che in futuro, questo è il mio voto, che in futuro possa essere beatificato anche questo Papa che con grande coraggio prese l'eredità del Concilio, lo concluse, lo portò avanti con un'apertura enorme. Ora, Bergoglio è proprio un Papa, dicevamo all'inizio, che insegna con la sua testimonianza ed è per questo che è credibile e la sua credibilità contagia un po' tutti e quindi anche nel dialogo interreligioso il foglio dell'osservatore romano che se lo andiamo a guardare ai tempi di Papa Giovanni o di Papa Paolo VI era assolutamente il foglio della, chiamiamo così, dottrina della fede, ha ospitato negli ultimi giorni due meravigliose storie che vengono dal mondo islamico. La prima è questa bellissima storia di una mamma dell'Iran il cui figlio viene ucciso da un coetaneo e quindi questo coetaneo viene condannato a morte. Passa il tempo, viene il giorno dell'esecuzione e questo ragazzo è sul patibolo con la sedia sotto per essere giustiziato per impiccagione. Sta alla mamma il dover dare un calcio alla sedia e quindi fare in modo che l'esecuzione avvenga. Quasi una sorta di ricompensa per la vita tolta dal coetaneo. Questa donna fa un gesto meraviglioso, molto vicino ai gesti che amo in Papa Vergoglio, di grande coraggio. Prende questo ragazzo, lo riempie di ceffoni e poi lo perdona. Questa bellissima storia di grande, grande, grande dialogo interreligioso. E l'altra, ancora bella, io sono stato in viaggio a Bagdad. A Bagdad, un soldato, si accorge che nella fila che c'è per coloro che devono diventare e entrare a far parte dell'esercito, c'è un kamikaze che è imbottito di esplosivo, lo prende, lo abbraccia, lo sposta e facendolo esplodere e andando il suo corpo in mille pezzi risparmia la vita ad altre persone. Anche questa seconda meravigliosa storia che abbiamo raccolto dal mondo dell'Islam ci fa vedere come questo Papa Bergoglio ci aiuta a guardare agli altri non come un problema ma come un'opportunità, a guardare gli altri come una ricchezza e non come una povertà. Il mondo dell'immigrazione che oggi in Italia c'è, il mondo incredibile di queste persone che vengono non sono per noi un assalto ma sono per noi una proposta, una provocazione. e il Papa che va a Lampedusa è proprio il Papa che è attento a questi. Decide di fare un piccolo viaggio, va giù in un modo molto povero con la sua grande povertà incontra questi poveri dicendo la loro disponibilità. Oppure il Papa che accoglie il videomessaggio degli operai che sono messi fuori e in qualche modo fa capire quanto la Chiesa, quanto lui è vicino ai poveri. Ma lo fa capire con l'esempio perché ha un orologio di plastica, perché ha una croce di metallo, perché ha vecchie scarpe, perché esce con una macchina, perché sta in 45 metri quadrati. Non potevamo che chiudere con immagini migliori di queste che ci ha voluto ricordare Monsignore. Allora io vi ringrazio, ringrazio i nostri ospiti e ospiti per essere stati con noi questo pomeriggio per aver raccontato, per avervi raccontato il giorno della canonizzazione. Grazie per averci seguito. Qualche istante di pausa a 15 in punto il telegiornale Sky TG24. Arrivederci. Grazie a tutti.